Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. E poi chiede con forza e con rabbia, liberaci e libera i loro detenuti, non ci hai abbastanza massacrato, facci tornare a casa adesso, subito. È un punto di svolta questo video degli ostaggi? È un colpo di propaganda notevole di Hamas che punta sulle faglie interne al governo e all'opinione pubblica di Israele. Non dobbiamo dimenticare che Israele si è trovato in guerra dopo una lunga fase che non è finita di profondissime spaccature interne con manifestazioni di massa contro Netanyahu, manifestazioni magari meno massicce a suo favore, ma insomma il paese è spaccato. Netanyahu si trova oggi con una buona parte dell'ufficialità e dell'intelligence, soprattutto che non lo apprezza e lo considera un po' dilettantesco dal punto di vista militare. E una parte dell'opinione pubblica invece diciamo più di sinistra per capirci che lo detesta da sempre, ma soprattutto con questo problema degli ostaggi. Cioè è chiaro che in questo momento il governo israeliano ha detto sì, gli ostaggi cerchiamo di liberarli, ma non sono la priorità. La priorità è far fuori Hamas e questo ovviamente è un problema.